parte il prossimo 6 agosto la sedicesima edizione della festa delle bontà di bufala organizzata dall'associazione matine il prom l'evento gastronomico interamente dedicato alla mozzarella di bufala campana d'op si terrà all'interno di piazza martiri del lavoro nella frazione matinella di albanella nove giorni fino al 14 agosto interamente dedicate alla degustazione dei prodotti bufalini tipici del territorio quattro i caseifici che si alterneranno nella chermessa si parte il 6 il 7 agosto con l'azienda casearia bufali l'otto e il 9 agosto sarà possibile degustare i latticini offerti dal caseificio la vallesina domenica 10 agosto l'appuntamento è con i prodotti del caseificio la perla del mediterraneo mentre dall'11 al 14 agosto i prodotti saranno offerti dal caseificio la contadina sarà possibile degustare durante le serate tutta l'etate da animazione divertimento e tanta buona musica bocconcini ricotte e caciocavallo di bufala campana pomodorini fusile ragù o al sugo di pomodoro braciola e rosso e ancora salsiccia alla brace di vitello bufalino di maiale con patatine bistecca alla brace di vitello bufalino bovino con patatine parmigiana di melenzane con mozzarella di bufala campana accompagnati da vino o acqua dal 6 al 10 agosto sarà servito gratuitamente un dessert a base di ricotta mentre dall'11 al 14 agosto sempre gratuitamente sarà servita ricotta di bufala con miele o cioccolato l'evento è patrocinato dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal comune di albanella dalla regione campania la provincia di salerno del consorzio di mozzarella di bufala campana alla manifestazione prenderanno parte anche i ristoranti del territorio di albanella che ogni sera proporranno una specialità derivata dalla bufala l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla web tv voce di strada nelle serate del 7 e del 12 agosto mentre il 6 agosto sarà in diretta su telecolore buona giornata 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 Grazie a tutti